Accogliamo uno tra gli chef italiani più famosi al mondo, ristoratore pluristellato, ha scritto diversi libri di cucina, è qui con noi... Mi ha già detto che ho fatto un mappassone, Bruno Barbieri! Ragazzi, uno dei migliori chef al mondo è qua! Adesso non esagerare! Hai capito? Finalmente sono riuscito a farmi dire un mappassone! Siediti pure i carri! Prego, accomodati, accomodati! Ok, ci sono! Eccoci! Su quella sedia da regista... Come stai? Tutto bene? Bene, voi? Sì! Come dico, voi siete a posto? Bene! Ma allora, la ricetta della besciamella come la faccio io è giusta o no? Guarda, devo dirti che lei a parole è bavina! Come a parole? Vabbè, poi bisogna vedere i fatti, capisci? Hai, ma già peccata! Esattamente! Ma già, solo guardandoti! Solo guardandoti! Ascolta, Bruno! Vabbè, ti vediamo anche spesso in televisione, questo si sa! Ogni tanto! Una domanda che mi sono sempre detto, all'inizio di quel talent famoso... Sì! Sono un sacco, quanti sono? 20, 25, 30? 30 mila! 30 mila! No, ma quando sono nel momento in cui entro nella cucina di... 22! 22! Vuol dire che tu assaggi 22 piatti? Sì! È un... Guarda, devo dirti, è una roba abbastanza pesante, perché sai, il giovedì sera il pubblico, il nostro pubblico si siede in salotto, accende la tv e guarda il programma. Per fare tutto quello io aumento 10 chili, più o meno, e poi è abbastanza complesso e complicato. Si registra tanto per quattro mesi e mezzo, tutti i giorni, spostamenti in giro per il mondo, sai, con tutto. C'è uno staff dietro a questo programma molto preparato, siamo in tanti, circa 300 persone. È una roba un po' bella tosta, bella impegnativa, però è bellissima perché immagina che trovi, se hai la ricerca del talento attraverso persone che non fanno questo mestiere, che non fanno il mestiere del cuoco. E quindi è molto divertente questo perché poi alla fine si scoprono persone che hanno davvero quella roba, quella cosa veramente... Ma poi scusate, ce la fanno poi dopo? Continuano? Beh, sai, c'è tanta gente che... Allora, intanto, deve avere del talento. Il talento non si compra. O ce l'hai o non ce l'hai. Questa è la prima cosa. E poi, sai, entri... Noi accompagniamo queste persone all'ingresso di un mondo, di un mondo importante, di un mondo divertente, di un mondo da protagonista. Poi lì devi metterci del tuo. C'è chi ce la fa, c'è chi non ce la fa. Però, guarda, la cosa che io vorrei dire è che comunque noi non siamo alla ricerca di uno chef. Siamo alla ricerca di persone che hanno un qualcosa in più rispetto a e hanno dei sogni. Questo è importante perché nella vita bisogna avere dei sogni. Se hai dei sogni nella vita, poi tutto top. Altro che bescamella. Mi piace molto perché alla fine si parla molto di cucina, però tu hai un modo di mostrarti molto stiloso. Cioè, a te piace vestirti, possiamo dirlo. Beh, sai, io credo che il vestirsi bene, il porsi agli altri in un modo giusto, comunque credo che rispecchia l'anima anche di una persona. Quindi io tutto quello che faccio rispecchia l'anima di Bruno Barbieri. La mia vita nel mio lavoro, nel come mi pongo, nel come vivo la giornata, nel come vivo insieme agli amici, insieme alla gente. Questo è il mio modo di essere. Perché penso che una persona, quando è vestita bene, quando si lava, quando cucina bene, quando sta bene con se stesso, sta bene anche con gli altri. Adesso io vorrei... Un Bruno, io e te, a cena. Si deve mangiare un piatto allo scoglio. E per non vivendo la cena con lei. Certo, certo. Ma infatti lei potrebbe... Ma io lo lascio parlare. Vabbè. Ma lasciamolo dire poi. Se posso sì. Però ho delle belle storie da raccontare. E do a mangiare gli spaghetti allo scoglio, quindi olio e roba dappertutto. Adesso dimmi una cosa, perché non so mai cosa fare. Il tovagliolo. Adesso prendo questo, come vedi un tovagliolo di classe. Ok. Il tovagliolo qua? Già, qua si vede. Il tovagliolo così? No. No? Giù sulle gambe il tovagliolo? Devi appoggiare qua. Leggermente qua. Cioè, deve essere anche il tovagliolo che deve essere messo in un modo leggero. Ah. In punta, brava. Vedi? Oh, ma lei è una che c'è abbastanza dentro. Eh certo, con quelli sporchi, guarda. Ok, vai. La cravatta. La cravatta, per non sporcarla, nel taschino, dentro, dietro, come quando si andava militare. Se la cravatta sta come te la sei messa, scusa. Ma potrei andare al ristorante con la cravatta? Cioè, voglio dire. Ma io ho visto. Il tosto te la togli. Del tutto? Scusa, dove mangia? E la mettermi. E la mettermi. Perché scusa, adesso mi vieni a dire che non ti sei mai macchiato? No, sì, mi sono macchiato. Però voglio dire, non lo faccio quando sono al ristorante, in trattoria o fuori con gli amici. Cerco di avere un po', di essere un po'... Lo appoggio sulle gambe. Perfetto. Delicatamente. Benissimo. Poi? Bruno, ma è vero che tu quando eri giovane hai frequentato contemporaneamente due scuole? Cioè, tu hai... Sì. Di nascosto, tra l'altro, dai tuoi genitori, hai frequentato una scuola di cucina. Beh, guarda, io ho una... Sì, io ho una vita un po' strana, nel senso che comunque mio padre voleva che diventasse ingegnere. Secondo te, io ho la faccia di uno che sta chiuso dentro... O dentro un cantiero, in un ufficio, a prendere delle misure, a fare dei numeri, questa roba qua. No, eh. Quindi mi ero iscritto alla scuola per geometri e poi andavo all'alberghiero. Ma... Un giorno di qua, un giorno di là. Un giorno di qua, un giorno di là. Il giorno che mio padre ha imparato, perché la prof di matematica gli telefonò a casa, dicono, scusi, suo figlio... Come è che non viene mai a scuola? Non si è mai visto. Ah, quindi tu non è che gliel'hai detto? Ho avuto saperlo... È non chiaro. L'hanno chiamato da scuola. Cioè, suo figlio non viene. Cioè, io andavo all'alberghiero, capisci? Ciao. Ma adesso? Un disastro. E poi... Adesso... Cioè... Per fortuna che sei andato all'alberghiero. Devo dire... No, è stato molto... Non è facile... Non è facile per un ragazzo giovane riuscire ad arrivare a casa a parlare con i propri genitori, quando comunque ti avevano imposto di fare quella scelta. E io sentivo che ce l'avevo nell'anima. Mia nonna ce l'aveva nell'anima anche lei, che grazie a tutto il suo insegnamento, grazie alla sua educazione che mi ha dato, sono diventato quello che sono diventato. Poi è chiaro, un po' di talento ci vuole. Ehm... Poi alla fine, ogni tanto penso... Magari sarei diventata un bravo ingegnere. Non lo so. Chissà. Adesso fai il counseling invece per gli ingegneri. Il counseling di classe. E poi, vabbè, c'è stato il periodo delle crociere. C'è stato il periodo? Sì, naturalmente io avevo bisogno di fare una grande esperienza, avevo bisogno di imparare la scuola francese. La scuola francese si imparava in quel periodo, in quel momento, fino agli anni 70, sulle navi da crociera. Era quasi alla fine, perché avevo bisogno di imparare il rigore gastronomico, il rigore tecnico, la tecnica di lavorazione. Quindi la nave mi dava la possibilità di fare questo. e quindi penso che la cucina francese sia una delle tre migliori cucine del mondo, insieme a quella italiana e insieme a quella libanese. Poi da lì sono partito. Io me ne sono andato di casa molto presto. Ero a 18 anni, sono andato a vivere negli Stati Uniti, lavoravo sulle navi da crociera, ho girato il mondo, ho fatto un po' di anni lì, poi sono tornato a casa e lì è iniziata la mia storia. Devo dire questo, io ho sempre fatto nel mio lavoro il contrario di tutto quello che era quel mondo lì. Cioè se la cucina andava a sinistra, io andavo a destra. Se la cucina andava a destra, io andavo a sinistra. Perché sono stato un po', non voglio dire un ribelle, però sono stato uno molto attente, ho cercato di tirare fuori, di leggere quello che io avevo dentro. Ho lavorato molto, mi sono impegnato molto, ho avuto dei buoni risultati e poi oggi sono qua. Eh, da noi. Allora Bruno, rimani qua seduto un attimo, ti ritroveremo tra pochissimo. Grazie. 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 Grazie.